Da quattro mesi, dopo l'arresto a Marsiglia di Giuseppe Fazzone, era diventato il numero uno di Cosa Nostra Agrigioentina. Dopo 11 anni di latitanza, inserito ormai fra i 30 ricercati più pericolosi d'Italia, è finita in via Stati Uniti a Favara la fuga di Giorlandino Messina, 38 anni, di Porto Empedocle, già condannato al carcere a vita per associazione mafiosa e diversi omicidi. Ad arrestarlo, nel tardo pomeriggio, i carabinieri del reparto operativo di Agrigioento e i GIS di Livorno. I militari, secondo quanto rende noto, è il colonnello Mario Di Giulio, a capo del comando provinciale dell'arma di Agrigioento, da 24 ore circa, tenevano d'occhio, senza perderla mai di vista, la palazzina di Treppiani alla periferia di Favara. Nel pomeriggio, poi, la certezza. All'interno c'era Giorlandino Messina, da lì a poco l'irruzione dei GIS, che hanno utilizzato dei flashback, dispositivi che emettono fumo, luce e rumore. Messina è stato bloccato mentre era sturdito in una cameretta al primo piano dello stabile. Indossava jeans e camicia. È molto ingrassato ed ha perso tutti i capelli rispetto alle ultime fotosegnaletiche. Alla cinta aveva due pistole, una delle quali cariche con un colpo in canna. Ai carabinieri, che gli domandavano se fosse effettivamente Giorlandino Messina, non ha risposto. Li ha soltanto guardati quando qualcuno di loro gli avrebbe urlato contro di essere l'assassino del maresciallo Giuliano Guazzelli. Subito dopo essere stato trasferito a Villaseta, al reparto operativo, Messina, sempre in silenzio, avrebbe chiesto una sigaretta e un bicchiere d'acqua. Fuori dai cancelli, sono arrivati nel frattempo i familiari. Urlando, la madre ha chiesto notizie del figlio, se era ancora in vita o meno. Alla risposta positiva dei carabinieri ha sussurrato, Dio ti ringrazio.